Il TAV è un buco nelle Alpi, è il più lungo buco che vogliono scavare al mondo, credo che ce ne siano pochi di quelle lunghezze. Sono quasi 60 km dentro le Alpi, nella roccia. Tu immagina quante tonnellate di detriti di una montagna ricca di amianto e di materiali radioattivi dovrebbe venire fuori da quel buco e quindi venire ovviamente smaltita, non hai idea di quanti tir per portarla via. Un cantiere che durerebbe, chi dice ottimista 10 anni, chi dice pessimista 15 anni, costare uno sproposito a preventivo 13 miliardi e mezzo, il che vuol dire in Italia costa tutto il 40% in più, quindi si arriverebbe tranquilli e beati ai 20 miliardi, per fare che cosa? Per trasportare delle merci che non ci sono, tant'è che non bastano nemmeno a riempire il fabbisogno dell'attuale linea ferroviaria, quella un po' più vecchiotta, la Torino-Modan, che ogni giorno vede partire dei treni all'80% vuoti. Come racconta, mi sembra un servizio di report di qualche tempo fa, no? Report lo racconta dai tempi in cui c'era ancora Milena Gabanelli che presentava nei primi anni 2000 e già allora si vedevano i politici di destra e di sinistra che mentivano spudoratamente per negare i dati sulla mancanza di traffico merci e quindi sulla mancanza di una domanda, no? Che giustificherebbe un'offerta così costosa. Perché non si è mai fatto secondo te allora, visto che era così urgente? Visto che tutti dicono doveva farsi per accelerare, stiamo parlando di un progetto dell'80-90. Sì, è stato concepito negli anni 80 ed è stato messo nero su bianco nel 91. Però siamo nel 2019. Come dice Croz, è un'opera urgentissima da 28 anni e 16 governi. Se era così urgente perché non l'hanno mai fatta? Perché ogni volta fanno vedere dei buchi, ci sono ministri come Salvini che vanno a visitarlo pensando che sia il cantiere del TAV vero.